Siamo dato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo dato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo dato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo Gesù e Eucaristia per la nostra perseveranza nella nostra vocazione, perché benedica il cammino che sta facendo la nostra congregazione, per tutti i confratelli, per i seminaristi, per le vocazioni, perché Dio ci benedica di buone e sante vocazioni. E vogliamo ricordare anche le nostre sorelle, le oblate di San Giuseppe e del suo sviluppo. E ricordiamo anche per i nostri laici, Giuseppini, Marelliani, gli aggreganti e tutti gli altri, perché come figli di Giuseppe Marello possiamo stare, camminare nella Chiesa e con la Chiesa, arricchendo le Chiese locali con il nostro localismo e la nostra spiritualità. Grazie. 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 Grazie.